Buongiorno, buon sabato mattina, ben ritrovati per questo appuntamento quotidiano con i giornali e sfogliamo naturalmente i quotidiani locali, il resto del Carlino, Messaggero e Corriere Adriatico però prima di tutto guardiamo il santo del giorno e poi le previsioni del tempo, oggi sabato 16 maggio e Santo Baldo Vescovo, il sole è sorto alle 5.41 e tramonterà alle 20.28, guardiamo la nostra postazione meteorologica che cosa ci rimanda come dati, vedete la temperatura in questo momento è poco superiore ai 16 gradi e un'umidità dell'82%, vediamo l'immagine della webcam che lascia ahimè poco spazio alla fantasia, come vedete questa è la situazione, vediamo invece l'evoluzione per i prossimi giorni come sarà attraverso il sito della protezione civile Marche, vediamo per oggi cielo nuvoloso a tratti molto nuvoloso per nubi cumuliformi, le precipitazioni saranno sparse e prevalentemente a carattere di rovescio o temporali, però saranno più abbondanti nelle zone interne della regione però vedete che anche sulla costa la simbologia è presente, vediamo l'evoluzione del tempo per domani domenica il cielo avrà qualche nube residua in mattinata con compertura in rapida attenuazione da nord però vedete nella nostra provincia c'è un sole abbastanza pieno, però non si escludono deboli fenomeni residui sulla scolano, quindi nella zona centrale delle Marche durante le prime ore della giornata in risalita le temperature vediamo per lunedì, lunedì cielo poco sereno o poco nuvoloso con qualche addensamento pomeridiano sui rilievi vedete, quasi sole pieno ma del resto è lunedì e si sa che il lunedì dopo un sabato e domenica burrascoso e di nubi arriva il sole. Bene, partiamo con i giornali, il resto del Carlino apriamo con un fatto di cronaca una rapina in banca, due banditi, banditi anche un po' gentiluomini come li definisce il resto del Carlino quei banditi gentiluomini hanno offerto un santino a una signora per farla pregare in azione a morciola due erano avvolto scoperto, uno travisato e il bottino ammonta a oltre 20.000 euro si sono comportati con estrema calma, hanno atteso l'apertura della cassaforte tenendo dipendenti e clienti in ostaggio vedete la sede della banca appunto in questione. Ancora dalle pagine del resto del Carlino rimaniamo su quelle che riguardano Pesaro, si presenta in tribunale con un coltello però è stata denunciata una donna fermata dal metal detector all'entrata del tribunale non è il primo caso, dopo l'ecidio di Milano altre due persone sono state fermate con armi da taglio però questo episodio naturalmente crea sorpresa, un po' anche di allarmismo però si evince che l'attività di prevenzione funziona e quindi si recava per seguire l'udienza del compagno ma appunto è stata fermata dal metal detector. Ancora dalle pagine del resto del Carlino che riguardano Pesaro, Matteo Ricci sempre più spesso in televisione anche sui canali nazionali sulla Sette, ospite della Gabbia, risponde ad alcune critiche ricevute e dice appunto fa questo annuncio, rilancia dicendo che ospiterò a pranzo a casa mia i profibi e quindi insomma in accordo con il prefetto firmeremo un protocollo perché aiutino i volontari del verde e dei quartieri quindi insomma saranno impegnati in lavori socialmente utili ancora dal resto del Carlino ma andiamo a Fano perché c'è uno scontro tra Del Vecchio e i servizi sociali, scontro all'ultimo euro Del Vecchio accusa la giunta di tagliare ma l'assessore risponde non è così, vedete nella foto dell'assessore Marina Barniesi e qui nell'articolo ci sono tutte snocciolate le cifre che riguardano questa vicenda. Poi lunedì al porto inizia il mini dragaggio si cerca di dare un po' di respiro all'entrata del porto soffocata dai fanghi, 2500 metri cubi circa verranno dragati un intervento di emergenza, questo insomma in attesa di un intervento un po' più corposo che restituisca l'alveo naturale dell'imboccatura del porto ancora un po' di cronaca delle pagine del resto del Carlino bici rubate rivendute su Facebook, la proprietaria riconosce il mezzo e finisce in eguai una napoletana che faceva questa operazione di rivendita attraverso una pagina Facebook, il mercatino delle mamme di Fano e naturalmente le clienti sue erano ignare della provenienza delle biciclette e poi più in basso, servizi e disservizi, Adria Bus e le tariffe per Metaurilia una pensionata si lamenta, dice il biglietto è caro il biglietto qui riportato è di 1,65 euro ma il direttore dell'azienda Massimo Benedetti replica non penalizziamo nessuno cambiamo testata, andiamo nel Corriere Adriatico per quanto riguarda peso, anche qui la rapina in primo piano panico in banca, 11 gli ostaggi qui ci danno il numero degli ostaggi erano tre banditi a volto scoperto e ben vestiti attendono per un'ora all'interno della banca l'apertura dello sportello anche qui nella pagina di Fano biciclette rubate in vendita su Facebook e il dragaggio del porto per scavare un solco per far entrare barche e pescherecci in sicurezza con una spesa che si aggira per questo dragaggio sport intorno ai 28.000 euro 62.000 euro 62.000 portati in discarica naturalmente parliamo dei metri cubi andiamo a vedere anche in basso un'altra notizia riserve degli utenti che a grande maggioranza apprezzano Aset più contenitori però per la differenziata carente la pulizia di spiagge e strade ancora cambiamo l'ultima testata vediamo quella del messaggero che vediamo ogni giorno per questa rassegna stampa Palazzi Vuoti via al recupero parliamo di contenitori di palazzi che non hanno più la loro destinazione d'uso usuale però sono appunto delle scatole dei contenitori che non servono a niente questi troppi contenitori senza vita in centro Pesaro, bus alla cassa, depositi e prestiti progetti per l'ex Bramante, San Domenico, San Benetto ex carcere minorile e in tendenza e vediamo anche qui la pagina della fotonotizia in prima pagina del fiume Foglia dopo i furti e i vandalismi arriva il guardiano delle barche per vigilare appunto su inattanti che sono ormeggiati lungo il Foglia anche qui sequestrano i clienti e svaliggiano le casse della banca il meteo, probabili piogge ma da lunedì abbiamo visto c'è di nuovo il sole poi spedisce in libro con la sua vita una bella vicenda per un signore della veneranda età di 90 anni ex partigiano, scrittore Marinelli che manda a Papa Bergoglio questo libro con la sua vita e lui lo ringrazia con una lettera poi è stato ricevuto anche a Montecitorio dalla Boldrini insomma un giorno quello del 16 aprile scorso sicuramente da ricordare per questo nostro nonno ancora Foglia, ecco il guardiano ma slitta però il progetto della Darsena turistica vedremo se questo progetto vedrà la luce e quindi insomma Union Fiume si autotassa per bloccare furti e vandalismi troppi luoghi non luoghi operazione recupero vedete qui nella foto uno dei palazzi in questione sindaco e prefetti impegnati nel trasferimento della questura all'ex intendenza di finanza una cosa che vi voglio segnalare è questa che riguarda soprattutto le nostre città Pesaro, Urbino e Fano una bella pagina di cultura una notte ai musei con un grand tour non è insomma il remake di un famosissimo film ma è una possibilità che viene offerta a quanti vogliono visitare i musei anche in ore serali, in ore notturne coinvolte sia Urbino, sia Fano sia Pesaro con i musei civici a Urbino c'è la casa della poesia altre strutture a Fano saranno disponibili fino dalle 21 a luna di notte con eventi anche suggestivi il palazzo Malatestiano e le sue sale espositive nella corte quindi insomma una bella possibilità per quanti magari durante il giorno per svariati motivi non hanno possibilità di andare nei musei ecco che ne avete l'opportunità ultima pagina quella del messaggero per quanto riguarda Fano case per gli sfrattati la sfida del comune presentato un bando sperimentale rivolto ai proprietari di alloggi l'assessore Barnesi il nostro progetto dice offrirà una risposta a chi resta senza tetto per morosità incolpevole razzia al ristorante svaliggiata la cassaforte è avvenuto in Sassonio a bottino di 20.000 euro però più di 5.000 euro di danni i titolari chiedono più sicurezza e poi mini rugby la carica dei mille sono arrivati 1.200 bambini delle scuole primarie del centro Italia per darsi appuntamento per questa manifestazione che li vede impegnati in uno sport molto bello che è il rugby molto sano e di sani principi e in un minuto all'Expo Fano verrà raccontata quindi un minuto per il video di Fano e anche le bandiere blu al lavoro per migliorare la balneabilità anche al Lido bene questa era l'ultima pagina che guardavamo come sempre quella del messaggero che riguarda Fano grazie per essere stati in nostra compagnia vi ricordo che Occhi giornali tornerà lunedì mattina alle 7.30 puntualissima e questa sera appuntamento con il telegiornale alle 20.30 ma se volete essere sempre aggiornati in tempo reale vi ricordo il nostro sito Occhiolanotizia.it e anche naturalmente i social network Facebook benissimo grazie e buona giornata a tutti voi Grazie a tutti